Salve a tutti, oggi è domenica 12 giugno e volevo fare qualche investimento sugli asset che ci sono oggi sulla 24 option, allora ho fatto un primo investimento sull'asset MSM30 al ribasso di 25 euro adesso andiamo a cercare qualche altro investimento io sto investendo sempre con la tecnica dei supporti e delle resistenze seguendo il trend vi faccio vedere un po', aprendo questi grafici sempre della piattaforma si vede che il trend è a ribasso ci sono state delle piccole fluttuazioni però secondo me alla fine l'asset andrà a ribasso dunque per esempio c'è il Dubai il Dubai secondo me andrà a rialzo le scadenze vanno di un quarto d'ora e un quarto d'ora sono le 10.55 io metterei per le 11 un quarto d'ora sempre per l'alto 25 euro su Dubai danno il 65% quindi questo è il secondo investimento la scadenza è fra un quarto d'ora 10.44 alle 11 nel frattempo vediamo se c'è qualche altro asset vediamo il Quatar Index il Tadavool vediamo un poco il Tadavool secondo me si può investire per il ribasso guardate il trend va a ribasso però la scadenza è a mezz'ora perché c'è solo la scadenza alle 11.15 io investo a ribasso aspetto un attimo che si rialza un pochettino per prendere un punto più alto ecco adesso ho comprato a mezz'ora di scadenza per il ribasso ho già fatto tre investimenti tutti gli investimenti sono di 25 euro il Tadavool sta scendendo mentre il Dubai e l'MSM30 sono ancora nello stesso punto il Dubai è appena salito vediamo un po' è appena salito adesso è sceso io a questo punto prenderei il punto più basso per una salita quindi comprerei il Dubai a un prezzo perché la direzione è in salita quindi comprerei il Dubai a un prezzo più basso in modo da riprendere la posizione allora sempre la scadenza per le 11 metterei 50 euro sempre per l'alto nel caso dovessi recuperare le 25 vedete sta salendo per ora ho due posizioni in guadagno una in perdita e una in pari ho aperto in tutto quattro posizioni sono le 10 12 e 48 mancano 12 minuti alla scadenza delle 3 posizioni vediamo il Tadavool come sta andando vedete piano piano sta scendendo anche se ci sono molte fluttuazioni tutto sta nel prevedere la direzione io seguo sempre il trend poi naturalmente con le opzioni binarie a breve termine il trend può cambiare da un momento all'altro però è consigliabile sempre seguire il trend metti in pausa vediamo riprendiamo riprendiamo e vedete il Tadavool sta continuando a scendere il Dubai a quanto pare si è rialzato e si è rialzato anche il primo di 25 euro io l'avevo preso a un punto più basso mancano 5 minuti e 52 alla chiusura della posizione solo l'MSM30 si trova sempre allo stesso punto vedete il Dubai si sta alzando ho aperto in tutto quattro posizioni tre da 25 e una da 50 tre con scadenze a 15 minuti e il Tadavool con scadenza a 30 minuti sono le 10 e 54 questo è il Dubai che ho acquistato a un prezzo più alto in effetti questo l'ho acquistato a 33 e 42.10 e invece quello da 50 euro l'ho acquistato a 33 e 41.47 a quanto pare anche l'MSM30 sta scendendo anche se di un minimo spostamento da 58.68.430 sta a 58.68.420 mancano solo 4 minuti e 20 alla scadenza delle prime tre posizioni mancano 4 minuti mancano 4 minuti e 20 mancano 3 minuti e sono le 10 e 56 57 quasi mancano 3 minuti alla scadenza delle tre posizioni questo è il Dubai che ho acquistato a un prezzo più alto e questo è quello più basso vediamo il Tadavool sta andando benissimo mancano 4 minuti e sono le 2 minuti a il dubai a quanto pare sembra che voglia scendere quello da 25 euro l'investimento da 25 vediamo che succederà in un minuto e mezzo invece quello da 50 è ancora in positivo perché è stato acquistato a un prezzo più basso manca un minuto alla scadenza 30 secondi alla scadenza 13 secondi si sta rialzando 4 secondi 3 2 1 0 allora tre posizioni sono state prese quindi 82 euro e 50 41 e 25 41 e 25 adesso che la calcola ci vuole un po' di tempo vediamo il tadavull tadavull manca ancora un quarto d'ora metti in pausa riprendiamo riprendiamo allora le le posizioni sono state tutte vinte le quattro posizioni e mancano quattro minuti e 50 al alla scadenza del tadavull si sta rialzando un pochetto perché evidentemente una scadenza di mezz'ora era troppo lunga però era quella la scadenza che ci imponeva la piattaforma di solito la domenica non ci sono molte scadenze le scadenze sono imposte dalla piattaforma e quindi non abbiamo molte scadenze e ci dobbiamo adattare a quelle che ci sono quindi adesso vediamo in questi quattro minuti se riusciamo a prendere la posizione nel frattempo io voglio vedere un po' la cronologia e voglio fare due conticini allora 32 euro e 50 perché danno il 65 per cento più 16 euro e 25 più 16 euro e 25 quindi nel primo quarto d'oro ho guadagnato 65 euro adesso se guadagno pure questa vediamo aspettiamo la scadenza altri tre minuti sta piano piano salendo però vediamo mancano due minuti e 40 sta continuando a salire speriamo che si fermi un pochetto perché come vi ho detto forse il tempo era troppo anche un quarto d'ora 20 minuti sarebbe andata bene però il tempo che dava la piattaforma era quello quindi mancano due minuti vediamo se in questi due minuti ce la fa vediamo i grafici sì c'è un piccolo rialzo che comunque è sempre momentaneo però c'è sempre la questione del tempo adesso manca all'incirco un minuto e vediamo che cosa succede in questo minuto sta scendendo quindi sta scendendo questo investimento finirà bene mancano 20 secondi sta di nuovo risalendo vediamo 3 2 1 preso ha preso quindi altre 16 euro e 25 il 65 per cento quindi a 65 sommiamo 16 euro e 25 81 euro e 25 un guadagno di 81 euro e 25 anche oggi che è domenica questa è la 24 option come vi ho detto e anche oggi ho potuto investire allora qui sul mio sito www.opzionibinarie60secondi.it nella sezione piattaforme c'è tutta la spiegazione per chi volesse iscriversi su questa piattaforma se vi iscrivete dal mio link potete avere il demo di 1000 euro oppure il bonus o i segnali a scelta e qui ci sono alcune tecniche che io vi faccio vedere come utilizzo su questa piattaforma devo 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 mettere altre tecniche qui tra le quali c'è questa tecnica dei supporti e le resistenze che può avere anche una scadenza di 10 minuti oppure di un minuto ecco qui basta che andate negli articoli su supporti e resistenze e vi andate a leggere la tecnica vi ho messo anche parecchie figure con degli esempi su questa tecnica si tratta solo di riuscire a capire quali siano i supporti e le resistenze e quindi si può investire anche con una scadenza di 10 minuti oltre che con una scadenza di un minuto e qui c'è il formato pdf per chi lo volesse scaricare ecco qui qui c'è il pdf con tutta la spiegazione allora poi qui nella sezione articoli ci sono altri articoli tipo l'articolo del money management che tutti dovrebbero applicare per una corretta gestione del loro capitale depositato sulle varie piattaforme oppure l'articolo sull'atteggiamento mentale che devo postare fra poco però nel frattempo vi ho fatto altri articoli invece qua ci sono tecniche per principianti le tecniche veloci e come iniziare con le opzioni binarie qua ci sono varie strategie che non sono tutte quelle descritte su youtube le devo ancora mettere ne devo ancora metterne alcune e poi qui ci sono i miei ebook un ebook particolare che spiega i supporti e le resistenze è questo ebook fibonacci negli opzioni binarie dove spiega esattamente cosa sono i supporti e le resistenze e come vanno utilizzate questo tutto riferito a fibonacci perché nei ritracciamenti di fibonacci abbiamo a che fare sia con i supporti e le resistenze sia con i target price e io in questo libro scrivo come si calcolano i target price e poi le altre cose correlate sono le trend line i ritracciamenti abbiamo detto i supporti e le resistenze e la tecnica a ventaglio quindi questo è un ebook fibonacci negli opzioni binarie dove ci sono anche delle tecniche create da me tra le quali una tecnica con i ritracciamenti di fibonacci una tecnica con le fall line e una tecnica con le trend line in queste tecniche si usa anche un determinato pattern di prezzo per poter investire in maniera corretta poi per chi volesse iniziare a investire c'è il mio primo ebook investire in opzioni binarie pubblicato dalla Bruno Editore un ebook che spiega dalla A alla Z l'analisi tecnica quindi vi mette in grado di poter partire e iniziare vi spiego come si settano i grafici dove si trovano e come iniziare con alcune tecniche poi c'è il secondo ebook piano d'azione per le opzioni binarie dove ci sono 5 tecniche e come si costruisce un piano di trading per investire correttamente nei mercati per investire correttamente nei mercati e poi ci sono le grandi teorie per investire negli opzioni binarie un ebook molto culturale diciamo più teorico che pratico dove bisognava comunque prendere in considerazione anche e bisogna sapere chi è Dao, chi è Fibonacci e chi è Elliot chi sono questi grandi tre personaggi che hanno per esempio Dao è il padre dell'analisi tecnica se non ci fosse stato lui non sapremo nulla sull'analisi tecnica quindi andava fatto di obbligo un libro su di loro e seguendo le loro teorie voi potrete capire bene perché i grafici si comportano in quella maniera c'è Elliot con le sue 5 onde di impulso e di correzione quindi tutte queste cose si possono applicare benissimo nelle opzioni binarie e poi c'è il quarto ebook soluzioni pratiche per le opzioni binarie dove ci sono circa 18 tecniche per chi andasse a trovare una tecnica ci sono tecniche dai 60 secondi a un'ora quindi io vi spiego come si settano i grafici e i vari punti di ingresso per ogni tecnica e l'ultimo ebook vi ho fatto vedere quello Fibonacci negli opzioni binarie dove appunto è un ebook che spiega in maniera molto approfondita anche i supporti alle resistenze quindi se voi volete approfondire questo discorso sui supporti alle resistenze anche per utilizzare quella tecnica che ho utilizzato io in questo video ci rivediamo al più presto con un prossimo video vi ringrazio per la vostra attenzione e spero anche oggi di esservi stata d'aiuto ciao e grazie grazie